Che bella giornata di sole! Gli uccelli cantano, il sole splende. Raccoon sta cercando qualcosa nella siepe. Ah, è una palla. No, era questo. Era un uovo di Pasqua. Oh, adesso ho capito. È una caccia alle uova di Pasqua. E tutti stanno partecipando. Divertente! Quando trovano l'uovo che manca, Granny gli darà un regalo. Andiamo! E' questa zanzara così strana. Dottor Spooky, ancora tu? Cosa? Un dinosauro che sputa fuoco! Che cattivo sei, dottor Spooky! Dinosauro sputa fuoco! Dinosauro, bevi e... Un uovo di Dinosauro! Oh no! Dottor Spooky, è nel laboratorio! Cosa starà facendo? L'uovo di Dinosauro! Dinosauro! Ehi! Il dottor Spooky vuole scambiare l'uovo di Pasqua viola con l'uovo di Dinosauro! Oh, no! Ai, 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 monkey! Fate attenzione alla nonna! L'uovo si apre! Il dinosauro va verso la casa! E la scuote! Ecco il dinosauro! Oh, oh! Va verso monkey! Attento! Cosa? Oh, il piccolo dinosauro vuole solo giocare! Oh! Passagli la palla, monkey! Che bravo! Che bello! È ora di scoprire qual era il regalo di Granny, ma... Un momento! Non c'è! È un coniglietto di Pasqua! Ce l'ha il dottor Spooky! Perché in fondo, anche lui ha un lato tenero! Che bello! Oh! 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 Yeah! Yeah! Oh! 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 Ha, ha, ha. Ha, 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 ha! Oh, 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 oh! no 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 Eeeh Raccogliamo le mele. Tutti collaborano. Che divertente. Ah, ma ovviamente il dottor Spooky li sta spiando e sembra... Abbiamo avuto un'idea. Cosa starà pensando? Quello è... Oragno? Oh, attento, ragnetto! Cosa sono quelle gocce? Il ragno sta crescendo! Oh no! Il dottor Spooky ha creato un ragno. Cattivo e goloso, proprio come lui. Torniamo al racconto. Perché c'è tutto questo vento? Il dottor Spooky è qui. Sta lanciando i suoi spooker. Che piano avrà? Eccolo! Stanno lanciando un sacco di ragni golosi sul racconto. Oh no! I ragni mangeranno tutte le mele! Attento, Kit! Monkey ha paura dei ragni! Dai, nonna Granny! Ci sarà qualcosa che possiamo fare? Ragno cattivo! Cosa succede? Invasione di ragni! È ora di preparare una pozione magica! Dai, saggia Granny! Risultiamo il problema! Un pochino di essenza di coriandolo! Un altro pizzico di ghianda di migliaia di fa! Un goccio di succo di arancia dolce! È l'ingrediente segreto! Una dose molto grande di amore! Un goccio di cozione! È tornato il ragno buono! Oh, dottor Spooky! Che cattivo che sei! Non inviare altri spunger! Ecco Granny! Ha buttato la pozione nel serbatoio! E tutti collaborano perché il piano funziona! Oh, wow! Dai, gas! Groovy! Il trattore si è rotto! Forza, ragazzi! Pensare a un altro piano! Gli spooker continuano a lanciare ragni! Dal laboratorio! Super trasformazione! Super forza! Monkey ce l'ha fatta! I ragni stanno tornando ad essere buoni! Il raccolto è tornato alla normalità! E gli spooker hanno avuto quel che si meritano! Alla prossima avventura! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha, ha! Oh! Ah... 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 Oh... Oh... Ah... 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 Ehi, ehi, ehi.